Eccoci qua, benvenuti nel mondo di Olivia. Oggi affronteremo l'argomento box o recinto in casa. Lascereste un bimbo di un anno da solo in casa? E allora perché dobbiamo avere la presunzione che il cane fin dai primi mesi sia indipendente, sia tranquillo e non faccia disastri? Sarà buona abitudine fin dai primi giorni creare all'interno della casa una piccola area nella quale il cane potrà stare tranquillo ma soprattutto potremo stare tranquilli anche noi dal momento che avremo necessità di lasciare il cane da solo in casa. Chiaramente sarà una situazione da proporre in maniera graduale e fare una sorta di allenamento al fatto che il cane possa rimanere tranquillo all'interno del suo box, del suo recinto. All'interno del suo box potranno esserci la traversina, potrà esserci un kennel, potrà esserci la copertina, un gioco, degli ossicini, degli stick, qualcosa che comunque gli possa dare tranquillità e gli possa far passare il tempo nel quale rimarrà da solo. Probabilmente le prime volte cercherà attraverso abbaio, mogolì, ululati, cercherà di farci capire la sua disapprovazione nello stare all'interno del box. Sarà nostra attenzione il fatto di metterlo all'interno del recinto solamente dopo averlo stancato, dopo aver fatto passeggiate, dopo aver fatto in modo che possa essere molto facile rilassarsi e dormire. Assolutamente non rispondere a abbaio o cercare di tranquillizzarlo o creare anche semplici rituali dal momento che lo metteremo dentro, dal momento che lo faremo uscire. Sarà importante aspettare il momento nel quale il cane possa raggiungere una sorta di tranquillità e andare a aprire la porta in maniera indipendente. Quando ne sentirà il bisogno, si sveglierà o avrà deciso di venire fuori, tutto questo lo porterà ad uscire. Se fatto con abitudine per il cane in un secondo tempo, questo diventerà un ambiente per il relax, un ambiente nel quale potendo entrare e uscire entrerà da solo in maniera indipendente e soprattutto a noi lascerà la possibilità di poter stare tranquilli, di pensare che dal momento che torneremo a lavorare o dal momento che avremo necessità di avere attimi di indipendenza o attimi di tranquillità, tutto questo non possa essere sinonimo di attività distruttive, di qualcosa che possa andare a mettere a rischio la vita del cane e soprattutto anche a creare dei disastri all'interno dell'ambiente domestico. Dal momento che inizierete a prevedere la possibilità di staccarvi per tanto tempo dal cane, iniziate a fare piccole prove, ad uscire e poi rientrare dal momento che il cane è tranquillo, dal momento che il cane è in silenzio. Come detto prima, sia in uscita che in entrata, non fate rituali, non dite poverino rimani lì, adesso aspetti, vedrai che torno o dal momento che al vostro rientro non iniziate a fare una serie di feste, a fare tutta una serie di attività che portino il cane ad aver voglia di vedervi. Se ti è piaciuto questo video metti un like, vieni a farci visita su amdopt.com e iscriviti al canale se vuoi rimanere aggiornato a fronte di nuove pubblicazioni, di nuovi video. Ok! Ciao!